buongiorno francesco ben trovato giorno manuela buongiorno a tutti gli ascoltatori buongiorno allora come va la tua spesa quotidiana hai notato i rincari come no ieri sono andato al ristorante perché abbiamo fatto tardi di solito pagavo 20 euro sono andato un ristorante giapponese pagavo 20 euro olio che nitte mi hanno mi ha sparato 30 euro a così perché doveva ricaricare i prezzi del loro i ristoratori hanno avuto degli aumenti pazzeschi per quanto riguarda il riscaldamento la luce la bolletta della corrente della della luce e quindi stanno ovviamente non stanno fermi ricaricano sui clienti e i clienti per un po abbozzano e poi magari se ne vanno e quindi poi i ristoranti chiudono questo è questa questa economia spicciola se vogliamo invece parlare un po più approfonditamente a livello macroeconomico dobbiamo dire che questa inflazione questa impennata dell'inflazione che non avevamo dei tempi anni 90 no quindi da 30 anni da quasi 30 anni da più di 30 anni nel 91 e più di 30 anni cosa cosa sta succedendo sta succedendo che per l'aumento dei prezzi dei carburanti dell'energia elettrica del gasolio del riscaldamento per fortuna sta per finire perché ci avviamo la bella stagione hanno ricaricato tutti sui prodotti finali al dettaglio ma la cosa molto drammatica è che l'inflazione riguarda soprattutto i beni del carrello della spesa per cui a rimetterci sono soprattutto le persone che hanno uno stipendio basso che hanno un reddito minimo perché ovviamente per chi è milionario per chi insomma sta bene un'inflazione del 9 per cento insomma da un po fastidio come ha dato fastidio a me no io non sono un nambabbo professionista sono un giornalista al limite non vado più al ristorante ma per chi deve fare la spesa tutte le settimane è un dramma perché il 9 per cento degli aumenti vuol dire che il 9 per cento del proprio reddito viene tagliato non è matematico questo certo chi ha un mutuo è un po più avvantaggiato no perché sapete che il debito è anticiclico rispetto all'inflazione se crescono i prezzi ovviamente il debito che tu hai si riduce no dal punto di vista del costo del del denaro però per tutto il resto è un dramma è un dramma che il governo sta cercando di frenare già dal prossimo già da questo mese dovrebbe essere un 10 per cento di taglio delle spese della bolletta che a marzo manuela è inguardabile la bolletta del del gas della luce del riscaldamento è inguardabile tanto è aumentata e ovviamente poi abbiamo a che fare con una guerra che si riflette ecco adesso ci arriviamo anche alla guerra francesco esatto perché poi giustamente tu dici magari c'è chi poi torniamo anche sul tema degli imprenditori e dei ristoratori assolutamente c'è chi al mutuo magari però se cominciano a aumentare veramente esponenzialmente i prezzi dei beni di prima necessità appunto il carrello della spesa che aumenta del 5 per cento peraltro unito anche al fatto i prezzi aumentano spesso si verifica anche un altro fenomeno che è quello della shrink fashion noi ne abbiamo parlato in tempi non sospetti cioè quando all'interno di una confezione di pasta di qualsiasi bene diminuisce la quantità ma noi lo paghiamo o in modo uguale o anche di più però a fronte di una quantità inferiore quindi anche quello contano e non ce ne accorgiamo immediatamente però poi nella dinamica delle spese finali cioè a fine mese ce ne accorgiamo e come poi le bollette luce gas che aumentano appunto hai citato il caso dei ristoratori perché chiaramente i ristoratori i negozianti se poi non riescono a pagare le bollette devono chiudere perché come fanno a sostenere le spese quindi automaticamente poi in più i clienti cioè tutto una catena i clienti vanno meno perché hanno meno soldi cioè tutti noi no se 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 i prezzi aumentano come facciamo a sostenerli infatti già tu stavi dicendo anche in prospettiva futura il peggio probabilmente deve ancora venire già sono salite al 15,44 per cento le bollette di energie insolute cioè non pagate da privati e imprese nel mese di febbraio e il picco potrebbe essere poi più avanti appunto a marzo quello che stavi dicendo tu insomma mi sono agganciata per dare quest'ulteriore percentuale che dà l'idea della pesantezza della situazione hai fatto un quadro assolutamente preciso hai citato anche la shrink che vuol dire stringere in inglese quindi si stringono i pacchi della spesa anziché avere un petto di pollo tu c'hai un tre quarti di petto di pollo dentro la confezione del supermercato e tutto questo porta problemi ripeto l'inflazione la chiamano la tassa dei poveri e non è un caso perché va a colpire soprattutto chi ha un reddito minimo tu pensa a chi guadagna 800 euro o 1000 euro 1200 euro al mese gli tagli lo stipendio del 5 per cento capisci è una spesa importante per chi ha questi redditi e quindi la situazione è veramente grave è una situazione mondiale globale che riguarda l'occidente tu hai citato giustamente la spagna la germania che sono paesi più forti in questo dobbiamo registrare la totale afasia come la possiamo chiamare in concludenza della banca centrale europea il cui statuto la banca centrale europea nasce proprio come ente centrale che deve ridurre l'inflazione al 2 per cento c'è proprio nello statuto la differenza tra la banca centrale europea e la federal reserve è proprio questa che la banca centrale europea non ha quegli strumenti che gli permettono di agire sull'economia intera attraverso non sono investimenti attraverso l'aiuto agli investimenti invece la banca centrale europea chiude apre i rubinetti sostanzialmente per cercare di arrivare a un'inflazione al 2 per cento di un'inflazione fisiologica e in questo momento siamo al 6 per cento a 7 per cento adesso non so quant'è la media europea non mi sono ancora aggiornato ma cosa sta facendo dove la lagarde quali sono le azioni che stanno mettendo in campo per cercare di frenare questo disastro totale mi viene in mente l'apasia della banca centrale europea quando è scoppiata la pandemia identica cioè c'è una e questo è uno dei dei maggiori problemi delle istituzioni europee c'è una lentezza nel poi magari agiranno fra qualche settimana ma all'inizio quando c'è un'emergenza sono lentissime le istituzioni europee esatto mi hai chiesto della media europea le guardiamo subito i dati che sono stati appena pubblicati peraltro vediamo il prezzo del consumo nell'eurozona ecco qui 3 siamo al 3 per cento allora siamo già un punto in più rispetto alla esatto esattamente rispetto al 2 7 del dato precedente che già era rialzo gli analisti si attendevano un 3 1 quindi leggermente meno ma appunto come hai detto tu un punto percentuale in più rispetto a quello che dovrebbe essere cioè il 2 per cento su base mensile 2 5 guardate rispetto allo 0 e 9 del dato precedente e su base annuale l'indice dei prezzi al consumo 7,5 rispetto al 5 e 9 per cento ecco questo è questa è la situazione si rende conto che siamo saliti di due punti percentuali in poco più di un mese di solito ci vogliono anni perché salga così l'inflazione è una situazione veramente drammatica dovuta alla guerra sicuramente e all'aumento esponenziale dei prezzi energetici che la banca centrale europea si muova non possiamo aspettare sì anche perché bravo qui poi subentra tutto un discorso anche del famoso termine interventismo economico no che da che mondo è mondo cioè insomma non è il governo attualmente sta intervenendo per italiano per calmirare ovviamente i prezzi però è un tampone momentaneo a livello europeo bisogna intervenire come hai detto tu poi la banca centrale da un punto di vista di politica monetaria ma anche proprio l'istituzione europea deve fare i conti con una situazione che evidentemente sta dando dei segnali di debolezza francesco io credo che gli sia sfuggita di mano la situazione e questo è molto drammatico proprio mentre stavamo uscendo dalla pandemia quindi avremmo dovuto riagganciare la ripresa economica succede questo questa crisi internazionale che ha portato soprattutto a colpire la povera gente l'inflazione colpisce la povera gente la tassa di più povera inflazione è una bestia è una bestia che si sveglia al mattino e ci rosicchia lo stipendio e ci fa stringere la cinghia soprattutto perché ha redditi bassi certo bisogna sempre ricordarlo e quindi qui si vedrà veramente alla prova allo spirito europeo se l'europa è veramente un'europa dei popoli mira soprattutto al benessere della povera gente o se l'europa invece è una casta di tecnocrati che mira la conservazione dei grandi capitali anche perché in questo momento sai si sta parlando tanto dell'unità dell'europa sul fronte delle decisioni per la guerra ma insomma ma il bello deve venire dopo senti francesco poi ti chiedo un tuo commento su quello cioè insomma sul tema della guerra perché poi con te volevo affrontare visto che so che stai seguendo la questione il la vicenda delle spese militari dell'aumento delle spese militari di cui si sta ovviamente discutendo molto in questo momento peraltro anche gli italiani stanno dicendo la loro ci sono diverse posizioni ci arriviamo tra un attimo insomma russia e ucraina notizia in diretta ancora guardiamolo insieme insomma ma non non ci sono notizie confortanti su fronte dei negoziati che riprendono oggi pomeriggio guardiamo grazie regia ecco questo il sito dell'ansa partiti tre bus per mariupol mosca attaccati depositi di greggio in russia si stanno aspettando insomma accordi che però per il momento sembrano non arrivare e questo poi porta a una situazione sempre più gravosa anche da un punto di vista economico lo dicevi anche tu prima no ovviamente il conflitto non fa che il conflitto nel cuore dell'europa quindi sta danneggiando anche l'europa non soltanto dal punto di vista delle vittime dei civili che la cosa primaria che il valore supremo la vita ma anche dal punto di vista economico e quindi non parliamo poi della grande tragedia delle abitazioni che vengono bombardate degli sfollati dei profughi l'italia sta facendo la sua parte perché noi vediamo il loro nei profughi ucraini vediamo noi stessi insomma io non ci sono più problemi diciamo di di non accoglienza stiamo aprendo il nostro cuore a questa gente ma finché non si ferma questo conflitto probabilmente l'ideale sarebbe che una forza internazionale sovranazionale come per esempio l'onu agisce attraverso delle interposizioni tra russia e ucraina in modo da assicurare un principio di pace così non sta avvenendo io credo che ci siano responsabilità da anche dal fronte diciamo atlantico che continua ad alimentare questo conflitto perché se noi continuiamo a mandare armi alla russia evidentemente il conflitto non si ferma sarebbe meglio trattare e intensificare l'azione diplomatica questa è una è la visione di papa francesco che non si sta mettendo in atto la sua rete diplomatica come sapete una delle più capillari del mondo quella vaticana sta cercando anche contatti con la con la chiesa con la chiesa ortodossa russa che è molto guerra fondaia questo non va assolutamente nascosto perché chi si illude che il patriarca chirillo possa agire su putti nel senso della pace non conosce la chiesa ortodossa che è una chiesa etnica nazionalista e che quasi spinge putin all'invasione e quindi putti si sta comportando come un criminale di guerra mi pare che mi pare evidente gli ucraini stanno dimostrando una resistenza eroica ma stanno morendo è quello sì e quindi bisogna assolutamente fermare questo conflitto e intavolare delle delle trattative sul dialogo sui negozianti perché dobbiamo salvare della gente l'ideale sarebbe una forza di interposizione sotto l'onu ma come sapete a livello di consiglio il consiglio dell'onu c'è il veto della cina c'è il veto della russa e quindi è difficile mettere in atto delle delle iniziative pacifiche deve pacifiste che portano la pace in questo lembo d'Europa così così devastata che in questo momento è diventata l'inflazione. Ah certo Francesco allora sempre per rimanere su temi scottanti purtroppo. Consiglio di sicurezza scusatemi. Sì sì no 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 certo certo era chiaro governo e aumento delle spese militari se vedi no l'altro titolo l'inflazione l'abbandoniamo per un istante eccolo qui io avevo scritto siamo a un bivio per questo motivo allora intanto bisogna dire che il senato approva l'aumento delle spese militari con il voto di fiducia questo è accaduto proprio ieri cosa è successo avrebbero dovuto esserci più esponenti del movimento 5 stelle a opporsi a questa a questa decisione in realtà sia tra le fila del dei pentastellati sia tra le fila di forza italia ci sono stati molti assenti quindi fondamentalmente diciamo così i partiti si sono allineati a questa decisione scongiurando una rottura che si era paventata insomma nei giorni precedenti per questo io avevo scritto siamo a un bivio ma potremmo essere lo stesso a un bivio perché adesso la discussione andrà avanti allora tu hai citato il papa ovviamente che ha preso posizione no anche in questo in questo per questa notizia ha fatto un po' scalpore non scalpore scusami polemica il fatto che la notizia del papa che ha detto aumentare le spese militari è una pazzia sia finita un po' in sordina cioè molti non hanno riportato la notizia non se ne è parlato ma insomma tu stai facendo un reportage giusto su questo su questo tema mi piacerebbe capire un po' cosa ne pensi e quali sono insomma gli elementi a tua disposizione che ci fanno inquadrare ancora di più la situazione quello che penso io a poca importanza mente c'è è importante rilevare che nel mondo cattolico è molto molto tormentato e molto anche diviso per certi aspetti sull'azione da intraprendere nei confronti del conflitto ucraino perché se una parte dei cattolici è ammirato dalla resistenza ucraina che è un paese sovrano invaso dalla russia dall'altra parte ci sono molti cattolici che dicono che alimentare attraverso l'invio di armi come sta facendo l'italia l'italia sta mandando delle degli armamenti anticarro insomma molto 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 importanti per 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 il conflitto per 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 fermare l'invasione insomma tutto questo occhio ovviamente tiene in piedi il conflitto lo alimenta e quindi provoca altri morti altre vittime sarebbe forse meglio insistere sul dialogo e sull'intensificazione del delle trattative diplomatiche per fermarsi a arrivare un cessato il fuoco ora tutto questo si riflette anche nell'invio degli armamenti noi abbiamo pubblicato un'intervista a un costituzionalista cattolico peraltro perché è docente di diritto costituzionale all'università cattolica si chiama renato balduzzi è stato ministro della sede nel governo monti che anche membro del csm deputato eccetera vi dice una cosa semplicissima la costituzione ci permette di inviare armi perché l'articolo 51 della dello statuto dell'onu e soprattutto l'articolo 11 della costituzione quella che dice che l'italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controverse internazionali in questo caso ci permettrebbe di inviare armi perché qui si parla di uno stato sovrano che è assalito che è aggredito da un altro stato però tutto questo non elimina il problema appunto dell'invio di armi domani a genova io sarò il cronista insomma andrò a genova perché c'è una grande manifestazione delle associazioni cattoliche dalla gesci a pax christi ad altri gruppi alle acrie che manifestano contro l'aumento della spesa delle armi che come dice proprio francesco assolutamente ingiustificate ed è sì lui ha detto io mi vergogno mi vergogno per aumentare per aumentare eh la la spesa degli degli armamenti no tanto è vero che se non sbaglio le azioni di leonardo perché è passata così inosservata o meglio si è voluta far passare inosservata questa considerazione di papa francesco si è voluta far passare inosservata perché io non lo so però nei giornali evidenti i nostri giorni diciamo la la mainstream dei giornali italiani è assolutamente per la resistenza russa per l'alimentazione del conflitto è un po quello che stanno facendo gli americani sorreggendo no in modo indiretti eh in modo indiretto la resistenza dell'Ucraina no attraverso i consiglieri militari le informazioni dello spionaggio eccetera eccetera quindi forse sperano il rovesciamento del del regime di Putin che però è molto saldo per chi conosce quel quel paese quel popolo sa benissimo che la maggior parte dei russi eh simpatizzano per l'invasione questo va detto anche se il dissenso è molto forte molto coraggioso e molto spiccato eh è chiaro che le parole del papa sono come una vox clamas in deserto se tu sei per l'alimentazione del conflitto eh questo va detto con molta chiarezza allora i cattolici devono alzare la voce devono dire no all'aumento delle spese militari e devono dire che quello che va portato avanti è il negoziato di pace non il conflitto perché il conflitto non porta da porta solo la guerra diceva il papa Wittigua è un'avventura senza ritorno state vedendo no quello che sta succedendo certo 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 poi questo no no assolutamente quindi dicevi quando parteciperà la manifestazione domani a Genova Francesco? Sì domani domani c'è questa manifestazione a Genova davanti al Duomo in piazza San Lorenzo dove i movimenti pacifisti le associazioni cattoliche manifesteranno contro l'aumento della spesa militare un drappello di camalli andrà simbolicamente al porto per protestare contro l'invio perché partono da lì le armi no gli armamenti per l'Ucraina e sono partiti anche per altri luoghi no cioè c'è questa questa corsa al riarmo è francamente antistorica antieconomica danneggia i poveri evidentemente perché quelle risorse potrebbero essere utilizzate per esempio per aiutare chi sta subendo il morso dell'inflazione invece vengono per armare l'esercito. Sì faccio un po' l'avvocato del diavolo in questo contesto siccome noi ragioniamo un po' a livello europeo sappiamo molto bene che è una delle pecche del progetto dell'Europa non abbiamo una difesa comune no a chi dove ti chiedesse eh ma eh però uno stato deve anche essere in grado di difendersi ok quindi nel momento in cui non c'è una difesa comune l'obiettivo sarebbe quello doveva essere quello se uno stato si rende conto che non è adatto non riesce non riuscirebbe in caso di emergenza a difendersi da solo cosa rispondi? No ma che che uno stato abbia bisogno di un esercito come deterrenza no? Non è che possiamo fermare un'invasione con la bandiera della pace no? La bandiera della pace è un simbolo ideale di pace ma lo stesso articolo 11 non esclude la guerra ma esclude la guerra aggressiva la guerra quella che veniva chiamata la guerra giusta quella che viene chiamata la guerra preventiva la guerra è accettata dalla Costituzione soltanto in caso di difesa e dietro l'articolo 11 c'è una figura di cristiano democratico che fa parte diciamo della rosa dei santi del pensiero cattolico che è Giuseppe Dossetti no? Il grande costituzionalista che poi si è ritirato e diventato monaco eccetera e si è fatto monaco e quindi eh un conto è la deterrenza un conto è l'interposizione di forze armate ovviamente per fermare i conflitti lo stesso catechismo della chiesa cattolica ammette questo tipo di intervento per esempio in Bosnia Papa Wittiva raccomandava di fermare il conflitto io sono stato in Kosovo inviato nel reparto nel nel centro nato di Pristina e ho visto come le truppe della Nato hanno fermato il massacro tra albanesi e serbi capisci cioè non è che l'uso delle armi e ehm in linea deve essere bandito chiaramente però non possiamo arrivare a una corsa da riarmo perché la corsa a riarmo e le armi come diceva qualcuno poi vengono usate capisci no certo se tu produci armi chi chi le compra poi non se le tiene lì purtroppo cioè ha la tentazione di usarle quindi noi dobbiamo arrivare a degli accordi che portano a a a sempre meno armi non a una corsa a riarmo che porterebbe soltanto a una guerra capisci come nel film il dottor stranamore no quello sul sul tra l'altro c'è l'ombra del conflitto nucleare che torna dopo 40 anni che è allucinante no tu sai che insomma stiamo parlando di una potenza atomica quella che ha invaso l'Ucraina no 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 come no assolutamente assolutamente sì va bene sì sì allora francesco noi se ti seguiremo naturalmente in questa tua battaglia naturalmente poi ci sarà modo di parlarne anche in onda da noi grazie intanto per essere stato con grazie a voi come sempre buona giornata grazie arrivederci